La Esca e Pesca Pietrasanta vi presenta una serie di prodotti per lo spinning. In questo caso utilizziamo una Matthew dell'azienda Raptor, è una canna a monopezzo, una monopezzo da 14 grammi, praticamente mezza oncia. La linea è composta da diversi modelli con azioni e casting differenti. L'azione più pesante è un'oncia e mezzo, mentre la più leggera è un quarto di oncia. Sono tutte monopezzo con l'impugnatura in eva. Questo modello è un wrap, la Scatter Wrap, è un artificiale nuovo con una paletta molto particolare. Un altro modello che vi suggeriamo è questo della Raptor. È un'esca che nuota fino al 50 cm d'acqua. Ha una colorazione particolare, glitterata, con una banda rosastra. Un'altra esca che va benissimo è questo di Molix. È un artificiale che è adattissimo per tutti i predatori, trote, black, spigole. Ha vari tipi di colorazioni e in questo caso abbiamo utilizzato una colorazione tendente all'azzurro.